Di questi progetti che vengono dall'Europa, un'altra iniziativa è l'approccio leader. L'approccio leader nasce moltissimi anni fa proprio per cercare di ridurre gli squilibri regionali all'interno del territorio comunitario. Già nel 68, quindi politiche a favore delle aree economicamente svantaggiate. E questo riguarda solo le aree rurali, infatti questo tipo di iniziative non riguarda le zone metropolitane allargate, sono proprio aree rurali e quindi anche meno densamente popolate. E questo, vabbè, proprio perché va incontro sempre al discorso di non vedere l'agricoltura come una cosa isolata dal contesto, considerarla nell'insieme e valorizzare le risorse. Leader significa praticamente, è l'acronimo in francese di collegamenti fra le azioni di sviluppo rurale. Quindi non è un progetto che viene fornito, una cosa già scritta e già fatta, è proprio una metodologia che poi ogni area adatta alle sue esigenze e quindi elabora un suo piano. Ha una storia molto lunga, infatti vedete parte dal 91 e poi viene rifinanziata, i fondi strutturali, tutta una serie di passaggi, vedete fino al 2013, adesso sarà rifinanziata e quindi va avanti ancora questo progetto. E questi sono gli obiettivi, migliorare il potenziale di sviluppo delle zone rurali attraverso attivazione e mobilitazione delle risorse locali. Quindi qui si parla proprio di locale, di zone molto ridotte, molto piccole, zone che territorialmente sono molto omogenee, anche in termini di popolazione vanno al di là delle divisioni tra provincia e provincia, raccoglie magari, non lo so, una valle e tutti i comuni della valle, è un'entità geografica molto simile come territorio. L'incentivazione alla collaborazione fra operatori socio-economici al fine di produrre beni e servizi per creare il massimo valore aggiunto. Quindi va un po' al di là del solo discorso dei produttori agricoli, qui si comincia a coinvolgere anche altre persone, cioè tutti coloro che possono contribuire ad aumentare lo sviluppo e il valore aggiunto. Quindi altre cose ancora, acquisizione, promozione e diffusione di know-how sullo sviluppo integrato a livello locale, valorizzazione del patrimonio culturale, proprio per allargare il settore, il miglioramento dei rapporti fra produttori e consumatori. Quindi prende un po' di vista tutto. Vabbè, questa è una definizione pure semplice. e vedete che è anche il passaggio dalle politiche precedenti, che erano interventi diretti, come abbiamo visto, quindi intervenivo direttamente sul sostegno dei prezzi agricoli, l'ammasso volontario, ritiravo il prodotto in modo da mantenere alto il prezzo. erano degli interventi proprio fini a se stessi. Adesso si va invece nella direzione di qualcosa che promuova comunque il reddito dell'agricoltore attraverso un'azione più sociale, diciamo. E quindi quelli degli anni 90 erano degli approcci di tipo top down, cioè piovevano dall'alto, tu non decidevi niente, se volevi partecipavi, ricevevi ed era finita lì. Quello che si cerca di fare invece è un processo inverso, qualcosa che parte dal basso perché i cittadini stessi, gli abitanti di queste zone siano gli attori principali. e io questa era una cosa che ho seguito molto sulla carta perché diciamo il mio interesse almeno era, nasceva proprio dal discorso dell'essere facilitatore e quindi di cercare di promuovere proprio la partecipazione delle persone, il coinvolgimento delle persone. e quindi è un aspetto che mi interessa, è un tipo di approccio che preferisco perché è molto più coinvolgente per le persone e quindi questo è un po' il passaggio che si è cercato di fare negli anni. E naturalmente tutto questo avviene poi con il sostegno parte dall'Europa, autorità internazionali e regionali, questo naturalmente succede così e quindi non è, non ti dice che cosa devi fare ma ti dice come devi procedere, ti dà gli strumenti, non ti dà direttamente non è l'intervento diretto che ti dice cosa devi fare, ti dice come devi procedere per cercare di costruire questo percorso, no? E quindi è una metodologia proprio per sviluppare Nel senso che non, cioè vengono poi finanziati dei progetti che vengono realizzati dall'insieme delle persone di questa comunità, cioè sono le persone che fanno tutta una serie di, fanno il lavoro di cercare qual è la cosa migliore per la nostra zona per cercare di avere uno sviluppo e quindi ti mettono nella condizione attraverso tutta una serie di metodologie, di passaggi di creare questo piano di azione, no? È diverso che dire finanziare un intervento così, fine a se stesso. Qui è una cosa che viene ragionata e preparata prima, lavorando poi insieme anche ad altre componenti extra agricole, cioè tutti coloro che sono interessati allo sviluppo, ci sono i commercianti, ci sono le associazioni culturali, ci sono un sacco di cose anche privati, anche privati, gli enti pubblici, cioè tutto l'insieme delle cose per costruire, perché obiettivamente solo chi ci abita in un determinato luogo sa di che cosa c'è bisogno, no? E quindi una volta che metti insieme tutte queste informazioni poi presenti il progetto e il progetto poi ti viene finanziato, ma c'è un ritorno diverso, non si tratta più di finanziare solo l'attività agricola o di dare il contributo a ettaro o a capo di bestiame come succedeva. Devi ragionare, devi mettere insieme un po' di informazioni e creare qualcosa di organico, no? In modo che anche il coinvolgimento delle persone prima e dopo è diverso, no? E questo porta poi anche a un impegno diverso di tutti gli attori. No, no, il fine è proprio quello di arrivare a uno sviluppo tale, che magari non ci sarà più bisogno di finanziamenti. Per il momento vengono finanziati, ma come dire, è più giusto spendere una parte dei contributi europei in un modo piuttosto che in un altro, no? A pioggia non serve a niente, è un flusso... Se però il valore del finanziamento, a me le intenzioni della comunità o chi per la comunità regione, Stato, eccetera, finanzia, è portare a rendersi dipendenti dal finanziamento, a mio parere è un valore aggiunto. È un valore aggiunto, certo, sì, sì, no, infatti la differenza è proprio quella. Per questo chiedevo se poi realmente il riscontro, per te che hai esperienza, per lei che hai esperienza, scusami se hai detto del tutto, nei fatti accade questo, oppure i progetti che poi vengono realmente finanziati sono di altro tipo? No, i progetti sono sempre inerenti proprio allo sviluppo, cioè in questo c'è comunque poi un controllo abbastanza attento, naturalmente sulla carta, no? Nel senso, no, beh, siamo persone, succede uguale dappertutto, non è, no? Però, cioè, teoricamente è prevista proprio questa cosa. Qui, a lungo andare, lo sviluppo è tale che tu non dovresti più avere bisogno, no? Si tratta di creare anche proprio una rete, no? Sì, sì, dovrebbe servire da start-up e quindi uscire a mettere in moto questo meccanismo che poi dopo va da solo, no? Esatto, dovrebbe, sarebbe poi la cosa migliore, no? Vedete, queste sono le varie caratteristiche, strategie di sviluppo basate sulle esigenze locali, abbiamo detto un esame proprio della situazione, elaborazione, attuazione delle strategie dal basso verso l'alto, partenariati locali, tra settore pubblico e privato e formazione dei gruppi di azione locale, azioni integrate, innovazione, cooperazione e creazione di reti, no? Queste sono le azioni… un'idea, 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 una cosa che fanno in America quando tu vai con una tua idea, vai a una banca, a qualcuno che… a cui piacciono queste idee della finanzia, una cosa che a cui non puoi fare, se non ci sono questi fondi, queste realtà… Sì, diciamo che le banche non sono così elastiche. Comunque questo è lo schema, no? Le caratteristiche del locale cosa significa? Che comunque sono zone, aree ridotte, no? Non sono molto grandi e quindi c'è anche omogeneità e un minimo di coesione sociale, nel senso che ci si riconosce, no? Tradizioni e identità comuni e quindi il senso di appartenenza e la condivisione di necessità e aspettative comuni. Questo, cioè, come dire, rende molto simili le persone e quindi dovrebbe facilitare un po', no? Questo start-up proprio. E quindi in questo modo è più facile individuare i punti di forza e i punti di debolezza, i rischi e le opportunità e quindi anche valutare il potenziale, no? Il potenziale che c'è dentro questa situazione, gli ostacoli, eccetera. E le azioni vengono pianificate in base alle reali necessità dei contesti locali. Cioè, quindi, pensare di fare un'opera gigantesca, no? Perché comunque ti viene finanziata, mentre in realtà è necessario piccoli interventi, diventa un po' un po' difficile pensarlo. Bottom up, va bene, questo lo lasciamo perdere un attimo. Dicevo prima, partenariato locale tra settore pubblico e privato, i gruppi di azione locale, i GAL, consorsi misti tra enti pubblici e privati e tutti i potenziali attori dello sviluppo dell'area rurale. Quindi ci sono dentro tutti, no? E qui, questo è il vostro, questo è il vostro, il vostro GAL. C'è tutta l'area che si chiama Alto Salento, comprende i cinque comuni di Ostuni, Carovigno, Carovigno, Ceglie Messatica, San Michele e San Vito dei Normanni. Adesso mi sembra che ci sia entrato anche Fasano, forse in questa, qualcuno conosce, e si è formato questo GAL, questo gruppo di azione locale, no? È una società a responsabilità limitata e questi, se andate a vedere, sono un po' dei soci di questo, di questa società. Vedete che c'è dentro di tutto, no? Ci sono dentro i privati, c'è dentro il teatro dell'Est, c'è, non, appunto, non si parla più solo di settore agricolo, no? C'è dentro chiunque pensi di poter avere un'azione da portare avanti per lo sviluppo dell'area. Questo quindi diventa molto più coinvolgente, perché alla fine, cioè, se c'è dentro tutta la popolazione, è chiaro che è più facile far venire fuori quali sono i bisogni reali, no? Cioè pianificare degli interventi, pianificare delle cose, una volta che è individuato qual è la problematica, diventa automatico. E quindi dovrebbe essere anche molto più efficace, nel senso che verifico quali sono i problemi e se c'è il finanziamento, chiedo il finanziamento per quella azione, che è un'azione poi, come dire, sviluppata da tutti e quindi condivisa da tutti, no? Perché il problema, se no, è sempre che vengono fatte delle cose, però poi queste cose servono a uno, due, tre persone e gli altri sono fuori gioco. Invece in questo modo si dovrebbe riuscire a… questi sono degli altri soci di questa… vedete che ci sono tutti, c'è la scuola, c'è il gruppo folk, insomma ce n'è, ce n'è per tutti i gusti. Ecco, io a sto punto una domanda ve la faccio io, ma come funziona questo… questo… questo gal? Cioè non lo conoscete? No, ditemi di no, ditemi che lo conoscete. Ho visto… io la prima cosa che ho notato oggi mentre venivamo in qua era una una targhetta fuori da un negozio con il loghino del gal davanti al negozio, probabilmente è un negozio, un'associazione che partecipa a questa iniziativa. E quindi, allora, rewind, torno indietro, cioè vedete che queste azioni, comunque queste iniziative lodevoli, per carità, perché è il modo giusto di affrontare le cose, poi nella realtà dei fatti hanno un'applicazione che non coinvolge nessuno. Ed è questo allora il punto dolente, perché, scusa, è inutile mettere in piedi una cosa del genere se poi dopo nella realtà dei fatti i cittadini non la conoscono. Quindi lodevole come iniziativa e tutto quanto, ma forse bisognerebbe lavorare di più sulla conoscenza. Cioè se c'è un mezzo per cui posso contribuire, per carità, va benissimo. Io poi, dalla mia formazione permaculturale, ho un principio di fondo, che anche se una cosa non, come dire, non è così, non è proprio nelle mie corde, se non la sento così vicina a me, comunque meglio lavorare con che lavorare contro. Cioè lavorare contro è solo una perdita di energia, no? È tempo sprecato. Quindi se c'è una cosa così partecipo comunque, no? Partecipo comunque perché se partecipando riesco a fare qualcosa di buono, tanto meglio. Il problema è che se queste cose vengono create e il dubbio che mi viene, cioè vedendo che comunque non sono conosciute, è che comunque siano degli strumenti per, come dire, mantenere le cose in mano di pochi, no? Quindi tutta la democraticità del processo che viene dal basso non è così reale, insomma, no? E allora io capisco lo sforzo e su questo le regioni ci mettono molto impegno. probabilmente non hanno scelto il canale di informazioni giusto, no? Mi viene da pensare che bisognerebbe forse lavorare per rendere questa cosa materia di tutti i giorni, nel senso che uno lo deve conoscere. C'è questa possibilità, va sviluppata, insomma. Posso dire che alcuni di noi però non sono di Lecce? Non sono di... Se tutto il territorio della Puglia è già tutto diviso in Gallo, a parte le aree urbane che non sono rurali, quindi tutto il resto del territorio è diviso in Gallo. Quindi se non appartiene a uno abiti nell'altro, no? Però... Sì, non c'è molta informazione, anzi devo dire che per quanto ne so io sul mio territorio c'è pochissima informazione. Non si può dire, non può essere credo che non... Ecco, esatto, vedete che poi alla fine, insomma, l'unione fa la forza, ok? Ma poi sviluppando delle... Eh? La forza di pochi, giusto. In teoria dovrebbe servire proprio a ridurre i conflitti, no? Perché il fatto che siano presenti i vari elementi della società dovrebbe comunque, come dire, fare un'analisi prima in modo tale che poi i conflitti non vengono fuori. Ma questo sapete come... Ma quali sono i requisiti per associarsi oppure una volta associato a forza dei... Partecipi alla gestione di questo organismo. Dei progetti? Dei progetti. Cioè ci sono, adesso non so se ce l'ho, ad esempio nel caso del GAL Alto Salento, c'è l'elenco di tutti i soci, le quote sono quote di 100 euro. Cioè entri in questa SRL con 100 euro e poi dici la tua come l'hanno detto a tutti. Non c'è tanta differenza, no? Cioè il problema è solo, appunto, chi partecipa, che idee porta. Sono 100 euro all'anno che da ogni associato? No, 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 è la quota con cui tu entri. Ah, solo entrando. Esatto. Perché per quello che ho visto, cioè non ho approfondito, non ho fatto proprio caso troppo. Quello che hanno organizzato l'anno scorso si chiudeva sempre nell'ambito dei loro associati Cioè tipo un giro nelle masserie e c'erano solo prese in considerazione le masserie degli associati Anche se c'erano delle altre masserie molto più interessanti per quell'argomento L'hanno ignorata Le stesse persone che fanno sempre le stesse cose per due o tre iniziative diverse Lo so, il problema è appunto le persone Le persone sono poi il problema, non è tanto la struttura, non è tanto il processo Una cosa così dovrebbe, se il tuo interesse è lo sviluppo locale, fai un anno le masserie da una parte e l'altro anno le altre Chiaramente poi però, per questo dico che conviene essere Per questo che dico Per questo che sono le osterie, pure ci sono anche altre E quindi tutto a vota lì Certo, ma per questo dico che conviene esserci dentro Perché poi obiettivamente, se no, anche contestare l'azione è una SRL Fondamentalmente non è che puoi dirgli molto E quindi o sei dentro o sei fuori Quindi è chiaro che se la visione dei componenti di queste realtà è quella Non puoi sperare molto Per questo che dico conviene Non è un SRL che natinge a fondi europei Sì, lo può fare Lo può fare Nascono per... Cioè questa gente riesce a gestire, cioè a manovrare questi fondi Sì, sì, sì In modo da distribuirsi Beh no, cioè sempre su progetto Tu lavori su progetto, ti vengono finanziate alcune azioni, altre magari no Quindi c'è una scrematura naturalmente Non è che ti... Chi è? Chi parte? All'interno del NFR? No, il controllo passa dalla regione Passa comunque dalla regione Vedete, e quindi... C'è già un SRL che ha tutte le incombenze amministrative, di bilancio eccetera Che ovviamente non spettano i singoli associati E dei privati si possono associare e quindi contribuire con una voce di orientamento A far sì che accadano delle cose all'interno delle scelte Quindi per un gruppo... Sì, considerate che molto spesso, direi quasi sempre Cioè i politici, la politica, sono a corto di idee Ecco, infatti Cioè sono a corto di idee, non sanno più dove mettere le mani Se non ci sono fondi europei Ormai i nostri comuni, le nostre regioni annaspano E quindi la partecipazione deve poi anche servire a promuovere le cose Innanzitutto anche a dare un segno di quali sono le esigenze reali Perché molto spesso la politica è così lenta Che quando arriva a fare qualcosa è già tardi Cioè la popolazione ha già un altro problema da risolvere Quindi è importante, secondo me, proprio riuscire a trasmettere in tempo reale Molte regioni si stanno muovendo, ad esempio, nella direzione del coinvolgimento dei cittadini C'è la regione toscana, ha fatto la legge sulla partecipazione Tutta una serie di atti, ad esempio, devono essere discussi dai cittadini Cioè in modo proprio da metterli E per dire, c'è stato un momento come Transition Italia Che fa parte del Transition Network europeo Che siamo stati chiamati a Bruxelles Perché la Commissione E quindi la Commissione europea vale la stessa cosa del governo italiano Idee zero Cioè alla fine si sono resi conto che di questo passo Non ci sarà molta possibilità di intervenire così pesantemente Nel sostegno all'agricoltura Nel sostegno agli operai, in cassa di integrazione, disoccupazione Cioè sono tutti aspetti che rischiano di assorbire sempre di più soldi Che non ci sono più E quindi la cosa gli interessava perché Il fatto invece di lavorare molto orizzontalmente Con le comunità Di proporre dei sistemi per cui Le comunità, le persone Fanno lo stesso le cose Si mettono in prima persona Di impegno e fanno le cose Cioè la tua scuola Non Cioè hai muri scrostati Sta cadendo Un gruppo di persone Si mette lì e rifà la scuola Punto Cioè arriveremo al punto Che non ci saranno soldi per sostenere Tutte le azioni necessarie Loro si sono Insomma audizione Chiamati a Bruxelles Per capire Che cosa Che cosa si può fare Per coinvolgere Per coinvolgere le persone direttamente Devo dire la verità Che a me all'inizio È venuto il dubbio di dire Cavolo Questi Prima hanno buttato i soldi dalla finestra Adesso che non ce n'è per nessuno Vengono a chiederci a noi cittadini Di essere coinvolti direttamente Perché in fondo è un bene pubblico Perché alla fine si ritorna sempre lì Ed è Cioè È un dubbio Reale Però obiettivamente Che cosa Che cosa possiamo fare Se non dare Una risposta positiva Cioè Se finalmente potessimo cercare Di avere un ruolo attivo E di prenderci in mano le cose Sarebbe Sarebbe molto positivo Cioè saltare il passaggio In cui Cioè Devi avere le autorizzazioni Cioè le cose le faccio Punto No? E quindi La possibilità La roba delle poche Nazioni A non soffrire completamente Di tutti i pochi Europei Perché c'era Scarsità di idee Di progettualità Se non si riuscivano a A prendere tutti Non solo Molto spesso Non è così Non è così semplice Cioè Se le idee Questo corso Che abbiamo Che abbiamo qui Grazie a Francesca Lei Non Cioè Non lo puoi fare come singolo Sì No? Quindi Già Già Mettere dei paletti Per cui Ci sono tutta una serie di passaggi Che tu Devi fare Devi essere qualcosa Per poter Diventa Diventa abbastanza Abbastanza complicato Ci sono tutta una serie di Di requisiti Che non Non tutti possono avere Così facilmente Quindi anche questa cosa Dei finanziamenti Cioè L'informazione Come ti arriva L'informazione? No? Cioè Credo che nessun agricoltore Sia lì Due ore al giorno Davanti al computer No? Sul sito Dell'Unione Europea Per vedere Che cosa Che cosa sta Sta venendo fuori Cioè Hai altro da fare No? Allora Allora è molto difficile Se dall'altra parte Non hai delle strutture Che ti Appoggiano in questo Diventa Diventa un po' Io Per carità Non vorrei Dire male Però Molto spesso Le associazioni Degli agricoltori Come dire Il sindacato Degli agricoltori Le varie associazioni Di cui fanno parte Non è che abbia Un ruolo Molto attivo In questo No? O perlomeno Ce l'ha Con determinate figure Ce l'ha Con determinate Con determinati Tipi di aziende No? Aziende Perché? Perché il concetto È quello di aziende Sempre più grandi Invece il bisogno È quello di Aziende piccole Che siano in grado Di mantenersi No? Cioè La nostra agricoltura Per quanto Se ne dica E per quanto Si faccia Credo che abbia Una media Di superficie aziendale È di otto ettari No? Cioè Cioè Come media nazionale Tra tutto il numero Quasi due milioni Di aziende agricole Che ci sono La media È di otto ettari Non è Non è Capito? In confronto agli altri Paesi europei Siamo Siamo un po' indietro Ma Ed è cresciuta Nel tempo Proprio perché Molta parte Delle politiche Ha portato Alla concentrazione Delle aziende No? Per cui E Le associazioni Molto spesso Lavorano in questa direzione No? Cioè Cercano di indirizzare Magari Finanziamenti A un'azienda Piuttosto Che a un'altra Perché Quella Ha già una dimensione Abbastanza grande Acquisendo Altro terreno Da lavorare Aumenta Questa dimensione Quindi Tutta l'economia Di scala Tutte queste cose Che Per carità È giusto Ma è giusto In un'ottica Di un'ottica Un'agricoltura Industrializzata In un'ottica Di un'agricoltura Diversa Contadina Proprio nel senso Più Più semplice Delle parole Non ha senso Otto ettari Di terreno Lavorati Bene E in un certo Dovrebbero essere Sufficienti Per una persona Per mantenerci Una famiglia Questo è Un po' L'aspetto La sensazione Che dopo 50 anni Di politica Verso L'industrializzazione Nelle multinazionali Eccetera Adesso fallendo Tutti i progetti Anche dal punto Di vista finanziario Ci sia un po' Una corsa Alla rivalutazione Invece Delle aziende Agricole Della terra Della biodiversità Della tutela Dell'ambiente Eccetera A me piacerebbe Sapere se Secondo lei C'è la possibilità Di incrementare Soprattutto questo E non di Avere la corsa Verso L'agricoltura Cosiddetta Standardizzata O A largo Spettro Ma un'agricoltura Appunto Fatta anche Di piccoli Di piccoli Apprezzamenti Di rivalutazione Del territorio Dell'artigianato Locale Quindi forse Questa formula Potrebbe essere Quella più Garante Di questa possibilità Secondo lei? Beh Questa formula Coinvolge Dei territori Locali Non è rivolta Direttamente All'azienda Ma una Buona parte Degli sforzi Del prossimo Dei prossimi Sette anni Della PAC È rivolta Proprio All'agricoltura Biologica Alla promozione Dell'agricoltura Biologica E a tutte le azioni Di greening Che è possibile Fare sul territorio Una parte Dei contributi Ad esempio Verrà erogata Se un agricoltore Accetta Di investire Cioè di trasformare Fino al 20% Del suo terreno In aree verdi Quindi siepi No? E altre E altre cose simili Cioè Probabilmente Ci si è resi conto Di questi problemi Cioè del problema Della biodiversità Infatti Sono tutte azioni A sostegno A sostegno Della biodiversità E quindi Il finanziamento I contributi Per la trasformazione In biologico No? Comunque Va sotto L'indirizzo Qualità No? Anche Le produzioni DOP O IGP No? Finanziare Questo tipo Di cose Cioè Andare anche A creare Delle nicchie Di mercato Diverse Dal tradizionale No? Cioè Continuare a produrre Cereali Perché Non puoi fare altro È vero Però Se hai Modo Anche Di orientarti Almeno Una parte Dell'azienda Perlomeno In un'altra direzione Può essere positivo In fondo Le aziende Biologiche In questi ultimi Dieci anni Sono le uniche A essere cresciute Come numero In totale Le aziende agricole Sono calate Ma le aziende biologiche Sono cresciute Il biologico Anche come Produzione Lorda Vendibile È aumentato È un mercato Che coinvolge Sempre Sempre più persone Ed è comunque Un tipo di azione Che è molto Positiva Per il territorio Certo È un tipo di azione Che con otto ettari Magari Ne hai più Che a sufficienza Perché poi Hai un tipo Di atteggiamento Che non è quello Di otto calorie Contro una La maggior parte Delle cose Magari le fai a mano Piuttosto che Che comprare E spendere Dei soldi In attrezzature E macchine Certo Per esempio Il problema Che noi abbiamo Maggiormente Dei disservanti Che non è un problema Solo locale Ma è un problema Planetario Perché sta veramente Avvelenando la terra Dando un contributo Forte alle malattie Degenerative Ora se si volesse Veramente risolvere Questo problema Basterebbe Nei punti vendita Dare tutte le informazioni Sottoporre No A esibizione Del tesserino A tutti i compratori Cioè Si potrebbe In realtà Risolvere Questo problema Eh Sì Si potrebbe Ecco Quindi voglio dire Tutta questa normativa Molto spesso Fa sorgere Anche qualche dubbio Nel senso che Sì da una parte C'è una sensibilizzazione Da parte delle autorità Governative Di Diciamo Ridare Sostegno Forza Attenzione Alla terra E ai prodotti Della terra In modo naturale Dall'altra però C'è una press Continua ad esserci Purtroppo Una pressante Interessante Interesse Economico Di chi invece Questi prodotti Li vende Li commercializza E questo Ecco Considera che L'OGM Fino ad ora Siamo riusciti Ad evitarcelo Perché Comunque L'Unione Europea Non l'ha accettato Non so Non so Quanto Resisteranno Perché poi Anche rispetto Al discorso Che facevi tu L'azione Delle lobby A Bruxelles È fortissima Cioè i gruppi Di interesse Lavorano Naturalmente In senso opposto Ma se non sbaglio Ma se non sbaglio Se non sbaglio Negli ultimi giorni O ultime settimane È stato firmato Un altro accordo Tra Unione Europea E Stati Uniti Dove Per il libero scambio TCC Una cosa del genere In questo accordo Ci si scambia di tutto Senza rispettare Quindi La regolamentazione Relativa Agli OGM E tutto il resto Ah probabile Ma è chiaro Che prima o poi Succederà Cioè Tutto questo All'interno Degli accordi Commerciali Del VTO No Che è L'organismo Che Che governa Gli accordi Commerciali Mondiali Cioè È impossibile Cioè Non puoi Quando Quando l'altra nazione Mette sul piatto Delle Delle carte Pesanti Poi alla fine Che fai Cioè Molta parte Dei nostri prodotti I DOP E i GP Sono un caso Esemplare Prendono il volo E finiscono Dall'altra parte Dell'oceano Allora Cosa fai Accetti gli OGM O vuoi i Dazi No Alla fine Sono queste le cose Altro che Accordi commerciali Sono No Sono molto Molto elementari Come situazioni Per cui Per cui Passano poi Queste cose qui Ah se ti mettono Il Dazio Sul prosciutto Di Parma Poi vai a lo dire Te Hai O sui vini Se smettessi Non avremmo Il problema Esatto Questo è uno di quelli Potremmo evitare Gli OGM Si può comprare Il prodotto Direttamente Dal produttore Si può comprare Il prodotto Direttamente Dal produttore Vedere l'animale All'estero Dei nostri prodotti Che chiaramente Potrebbero avere Dazio Quindi essere Escrusi Dall'esportazione Per il prezzo Troppo alto Va bene Comunque Insomma Ripeto Nella Logica È un Un elemento Molto Molto Valido Bisognerebbe Appunto Trasformarlo Trasformarlo Un po' A nostro Vantaggio Cioè Essere Consapevoli Di questa Cosa Alla fine È uno Strumento Che ci viene Dato Che potrebbe Essere Interessante Utilizzare Poi Naturalmente Ripeto Siccome È fatto È composto Da persone Fondamentalmente È chiaro Che poi Ci sono Tutti I ma E i se Del caso E però Insomma È un'opportunità È un'opportunità L'altra cosa Importante È che Appunto Meno male Finalmente Anche l'Europa Ci è arrivata Adesso L'azione La spinta Verso i finanziamenti Dati al Biologico E a tutte le azioni Di Come dire Di Arricchimento Della Diversità Di trasformazione Dei suoli Cioè Saranno Saranno Molto più Consistenti E quindi Insomma Quindi speriamo Che cominci a cambiare Abbastanza velocemente Molto Probabilmente Mi sembra che Ne parlavo prima Cioè Verrà introdotta Anche questa Sorta Di Obbligo Della lotta Integrata Integrata Quindi Non Non più Trattamento Libero Quando uno Quando uno Gira Che uno decide Faccia i trattamenti Ma C'è proprio Registri Registri Dei prodotti Fitosanitari Trattamenti Autorizzati Solo in determinati Momenti Taratura Taratura Delle macchine No Delle Degli atomizzatori Che Utilizzi Per cui Non va via Più di tanta Acqua Ettaro Cioè Delle 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 Maglie Molto fitte Insomma No E questo 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 è positivo Cioè È positivo Perché Comunque In qualche Modo Va Va un po' Contro A quelle Multinazionali No Che Remano Contro Considerate Che poi Le multinazionali Della chimica Sono le stesse Che Che Producono E che Finanziano Gli OGM Sono le stesse Che stanno facendo Incetta Di semi E di patrimonio genetico Cioè Quindi sono quelle Tre o quattro To Cinque Proprio a esagerare E sono Sono sempre Le stesse Quindi Tutto sommato Ogni tanto Qualche Sprazzo Di fiducia Allora Ho saputo Che da quest'anno Da quest'anno Sembrano Vietati Gli spruzzatori Di Serbante Idrogetto Quelli che facevano Così E Invece Al loro posto Si dovranno usare Quegli Come diceva Più locali Quelli calidrati Sì Con Atomizzazione Arata Bassi Ricoperti Dalla Plastica E Allora Sono le multinazionali Che stanno Diffondendo Questo Attrezzo Sono loro stessi Che danno A chi Esegue I trattamenti I trattamenti I loro azioni Queste strutture Organizzano Anche i corsi Per informare I patentati Perché questo Perché Da qualche anno A questa parte C'è sempre più rumore La gente si lamenta Di questa Irrorazione Libera Non controllata Non controllata Loro Siccome stanno Sempre più avanti Di noi Si stanno Preparando Cioè Se non facessero Così A un certo punto La gente potrebbe Scendere in piazza Dice Oh basta Mi stai Avvelenando Mi stai avvelenando La cisterna Sto respirando Male E Siccome Giocano D'anticipo Allora Ti piazzano Questi atomizzatori Meglio che Non è tanta La fiducia È un calcolo Un calcolo Un calcolo spicciolo Proprio Di immagine Tu dici Ci hanno anticipato In modo che Questi spruzzi Non arriveranno più Al naso Al centro Ma verranno Tranquili A proposito Della fiducia No 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 Hai ragione Letta da questo Punto di vista Insomma Comunque Non è un gran traguardo No Loro stanno Avanti Esatto Ma le multinazionali Giocano Ti creano il problema E poi te lo risolvono È quello È una questione È una questione Di marketing Creano Il problema Creando più informazione Eh fanno male Queste cose E poi te lo risolvono Con le loro macchine Di fatto Le multinazionali Di che nazioni sono Americane O inglese O francese La Bayer Eh Tedesco va bene La singenta Alla fine Dobbiamo renderci conto Che dal 45 Noi abbiamo perso la guerra E quindi Dobbiamo sottostare A determinate Anche la Bayer Dei tedeschi Dovrebbe aver perso la guerra Però È comunque È comunque La più grande azienda Chimica del mondo Cioè Non Vabbè Ma Cioè No no Hai ragione I tedeschi hanno Sì 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 no ma Assolutamente Come i giapponesi diversi Hanno alzato sempre Il capo Quando sono stati Rassi al suolo Hanno sempre Alzato il capo Sia i tedeschi Che i giapponesi Quindi Vabbè No No Noi stiamo meglio Ad alzare il capo Noi però Sono state fatte Proprio contro Chi andava Ma Noi Ma noi siamo meglio Andiamo su un altro Andiamo su un altro Su un altro Argomento Va bene Allora Vediamo un po' Ah Questa Come siamo messi A orario Sei e venti Ci fermiamo un attimo Poi Tendiamo Cerchiamo di andare dritti O andiamo avanti un po' Eh No Io tenevo la parte Un po' più rilassante E interessante Dal mio punto di vista Per la fine No ma È poco impegnativa Poi quella Non Non Allora Allora Eh Vi ricordate Prima Che abbiamo visto Abbiamo visto Questo Questo aspetto Qui No Qual era Qual era Questo Io vorrei Non lo so Vorrei anche provare a darvi Qualche Qualche strumento No Qualche strumento E che è successo Non Non lo voglio questo 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 Voglio Vi imbeccate Un po' Impreparato Vediamo Ecco Questo qui Vedete È più facile Per individuare I punti di forza E di debolezza E rischi e opportunità Questi sono i quattro elementi Che compongono L'analisi SWOT L'analisi SWOT Che è l'acronimo In inglese Di quattro punti Debolezza Forza Opportunità E rischi Adesso Vado a cercare Il file Così Lo vediamo meglio Arrivo Dai facciamo 5 minuti Di pausa Così io intanto Preparo tutto È un progetto Ci sono Tanti modi Secondo me Questa è una Delle possibilità Questo Dragon Dreaming È una cosa Molto Abbastanza recente Diciamo Molto efficace Perché Tiene conto Soprattutto Del fatto Che noi Siamo molto bravi A pianificare Molto bravi Insomma Siamo bravi A pianificare Siamo molto bravi Ad attuare A fare le cose Ma Non siamo Altrettanto Bravi A sognarle Prima Cioè C'è una fase Preparatoria Di qualsiasi Progetto Per rendere Questo progetto Condiviso Perché L'importante Di un progetto Fatto da un gruppo Di persone È che il progetto Sia Di tutti No? E quindi Prima di mettersi Proprio a pianificare Nei fatti Che cosa va fatto Bisogna creare E questa cosa Che sia Comune No? Allora Con questo Metodo Dragon Dreaming Ci si vede Gruppetti Non troppo numerosi 10-12 persone Ad esempio Una cosa così In modo che ci sia Facilità Di scambio Che si riesca A parlare tutti No? Gruppi numerosi Sono un po' Complicati Da gestire Se siamo In 25-30 persone Ognuno Deve esprimere La propria idea Passano delle ore E non hai risolto Molto Invece 8-10 persone Ce la puoi fare Abbastanza efficacemente Ci si riconosce Subito Anche nei termini Proprio del ragionamento Ed è abbastanza Più facile E Si può fare Anche In più In più Riprese Per svilupparlo Ma l'importante È proprio Questo Primo incontro Che si fa In cui Si va Abbastanza A ruota libera No? Parliamo Di Di un progetto Non lo so Cosa può essere La nostra azienda Biologica No? Tanto per buttarnele una E Cominciamo a tirar fuori Che cosa Ognuno di noi Vorrebbe metterci dentro Questo è L'aspetto Fondamentale Perché Se poi Nella realizzazione E nel progetto Finale Ognuno Ritrova In questo progetto Qualcosa Di suo È molto più Portato Al coinvolgimento No? È un po' Il discorso Che facevamo Prima Del Del Gal Cioè Se è una cosa Che nasce Da un'esigenza Che ognuno Sente come propria È molto più Coinvolgente E quindi Questa prima fase Che si fa Proprio Così Seduti In cerchio Una persona Magari si prende Il compito Di registrare Tutte le cose Che vengono dette E si fa il giro Una, due, tre volte Finché Ognuno Non ha esaurito Le idee E si mettono giù Tutti questi aspetti Quindi tutte le visioni Possibili Che magari Non sono proprio Inerenti Specifiche Precise Però Vanno Vanno poi Risistemate Ricondotte In un ambito Più Come dire Più omogeneo Che si fa però Nella seconda Nella seconda parte Del pianificare Nella prima Nel primo incontro Uno Deve proprio Metterci Il cuore Più che la testa E così Si forma Questo insieme Di proposte Questo insieme Di argomenti Di idee Che rende la cosa Molto personale Nel senso che Dentro c'è Tutto quello Che mi piacerebbe Si facesse Nella nostra Azienda Biologica E questo E questo Ti permette Poi Di tenere Il gruppo Compatto Su quel Progetto Perché Ognuno Vede Il proprio Aspetto Vede La propria Idea Che si sviluppa E questo È molto importante È molto importante Cioè Entrare In un progetto In una fase Successiva Cioè O ti sta bene Così com'è Oppure Non hai tante Possibilità Essere Lì fin dall'inizio E metterci Del proprio Invece È molto importante Dopodiché Si passa Alle fasi Successive Della pianificazione E quindi Si comincia A fare Questa Questa rete Di tutti Questi punti Su un foglio Di carta Molto grande Le quattro I quattro Momenti Sognare Pianificare Attuare E si distribuiscono Si distribuiscono Su questo foglio A seconda Della posizione Che devono avere Cioè Tutta la parte Di preparazione No Di sogno Va Va su in altro Nella prima fase Del sognare La pianificazione Delle operazioni Successive Eccetera È proprio Pianificazione E poi c'è L'attuazione L'altro elemento Molto importante A cui non siamo Abituati In genere A dedicare Più di tanta Importanza Più di tanto Tempo È quella Della celebrazione Ma celebrazione Intesa Facciamo festa E va bene C'è anche quella Componente lì Ed è importante Ma celebrazione È anche come Momento Di Verifica No Cioè Verificare A un certo punto Del percorso Se Tutto quello Che avevi messo Nel tuo piano No Viene portato Avanti È importante Cioè Raggiungere un obiettivo E celebrarlo È importante E ognuna di queste Ognuna di queste azioni Deve avere Lo stesso Come dire La stessa percentuale Di impegno Non è che 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 una Vale di più E l'altra Vale di meno Cioè Se Pianificare Delle cose Che non hai Sognato Tra virgolette È un Un esercizio Di Così Di stile No Attuare Senza pianificare È una perdita Di tempo No Per cui È fondamentale Che ci siano Tutti i passaggi Che ci siano Tutti i passaggi In modo Da avere Il coinvolgimento E avere Anche Un'idea Precisa No Cioè Visione globale E azione locale Cioè Devo avere in mente Un progetto Completo E poi Vado ad agire Nel particolare No Non puoi Non puoi fare il contrario Vedere una cosa E pensare E pensare In grande Senza Averla prima Progettata E quindi Questo è un lavoro Che si fa Porta via Magari Due Tre incontri No Però Insomma È il nostro progetto Bisogna Discutere Bisogna parlarne No Va fatto Va fatto Per benino E poi Naturalmente Si celebra Anche alla fine Del progetto Subito Celebrazione Quindi I momenti I momenti Di celebrazione Sia come Feedback Proprio Di quello Che è stato fatto Ma di celebrazione Vera e propria Sono importantissimi Non fanno altro Che cementare Il gruppo Intorno a questa Visione Un altro Punto Invece Molto più Come dire Preciso Attento Scientifico È l'analisi SWOT No L'acronimo Di Strengths Weakness Opportunities E threats E Questo Questo Ci permette Di avere Punti di vista Diversi Rispetto All'elemento Preso in esame No Molto spesso Noi Tendiamo a Come dire A ragionare Per comparti Perché Magari Abbiamo una visione Molto Tecnicistica Di un aspetto No Siamo degli esperti Di questa cosa E difficilmente Riusciamo ad andare Oltre Col nostro cervello Affrontiamo Un problema Ragionando In quel senso Lì Se invece Ci mettiamo Di fronte A questa tabella Dobbiamo Prendere in considerazione Diversi aspetti Quindi Vado a vedere Tutte Tutte le cose Un lavoro Fatto poi Questo Permette di lavorare Anche in gruppi Più numerosi Non fa altro Come dire Che far Uscire Proprio Quella che si chiama L'intelligenza Della folla L'intelligenza Collettiva No Si è visto Che Mediamente Un gruppo Di persone Non esperte No Un certo numero Di persone Esprime Come dire Trae Delle Conclusioni Molto più Efficaci Di quelle Che trovano Gli esperti Perché Perché Gli esperti Sono esperti E vedono Solo Quella parte Di problema Non riescono Ad andare Allì fuori Sono esperti Quindi loro Lo vedono Come esperti Un gruppo Più numeroso Di persone Che ha Visioni Diverse Prende in Considerazione Tutti gli Aspetti Si immagina Quello Che può Succedere Dopo Quello Che è Successo Prima Cioè E quindi Riesce A produrre Dei risultati Molto più Efficaci Ma Questo È Scientificamente Provato Proprio È Una Realtà No E in Genere Questi Quattro Elementi Se vedete Sono divisi In Rosso E In Azzurro No In Azzurro Sono Diciamo Le cose Positive No Punti Di Forza E Le opportunità Mentre A destra Invece Abbiamo Le cose Negative No Scusa Debolezza No È diviso Nell'altro Senso Non ho capito Perché E E E Poi Un'altra Divisione Che dobbiamo Fare Invece È Nel senso Di Forza E Debolezza Intese Come Elementi Interni Propri No È Il gruppo Che ha La forza Di fare Certe Azioni O Ha La debolezza Su Altri Mentre Opportunità E Rischi Sono Più Elementi Che Ti Vengono Dall'esterno No Quindi Anche La divisione Del lavoro Che va Fatto Cioè Sui primi Due punti Riusciamo Ad agire Più Noi Come Gruppo Sugli Altri Due Invece Sono Da valutare Come Elementi Potenziali Che vengono Dall'esterno Quindi Sono Da valutare Diversamente Il lavoro Che Si fa In genere È Ad esempio Se volete Se avete Un argomento Ci proviamo Subito Si distribuiscono Le discussioni Sono belle Bellissime Portano via Un sacco Di tempo Allora In genere Su questo schema Qui Si prendono Dei Come si chiamano I memo I post-it Si prendono I post-it Ognuno Ha un blocchetto E comincia A scrivere Comincia A scrivere Tutti i punti Di debolezza Che trova Tutti i punti Di forza I rischi Le opportunità Ci si prende Il tempo Che ci vuole Si scrivono Tutte queste cose Dopodiché Si comincia Ad applicarli Sul Sul tabellone Il tabellone Su un pezzo Di carta E si comincia Ad applicarli Quando vai Poi Alla fine Si fa Una sorta Di restituzione Collettiva Di quello Che è stato Scritto Si legge E vedi Che in realtà Ci saranno Due Tre elementi Che sono comuni A tutti No? Questo è Naturale In genere Quasi tutti i progetti Hanno come punto Di debolezza Di debolezza L'aspetto economico Ad esempio No? È uno Però Nell'insieme Poi ognuno Mette In uno In tutti e quattro Insomma Viene fuori Mette delle cose Diverse Cioè Una visione Che uno ha E che l'altro Invece non considera Per alcuni Può essere Un punto di debolezza La stessa cosa Che per l'altro È un punto di forza Quindi va Anche poi Come dire Bisogna interagire Un attimo Con queste cose scritte Rileggersele Tutte quante Suddividerle Magari In macro Categorie Cioè Ci sarà Una serie Di bigliettini Che vengono messi Uno sotto l'altro Perché dicono La stessa cosa No? Altri che sono Più o meno Sullo stesso argomento Ma sono simili E poi Ci sono invece Tutte le idee Che ognuno di noi Ha appiccicato lì E che nessun altro Ha avuto No? E quindi In termini In termini Di tempo È molto Ma molto Più Più veloce La discussione La fai dopo Con qualcosa Che è già stato detto No? Se no Ti tocca fare Una discreta fatica A individuare Tutti i punti E soprattutto Quando vai a discutere Perdi un po' Di vista Questa divisione No? Si tende sempre A passare Da una cosa All'altra Senza mai Però Fissarla Sulla carta E quindi E quindi Porta via Molto tempo Il lavoro Che si fa Poi Successivamente Perché non vai avanti È quello Di lavorare Su Questi Passaggi Mentre punti Di forza E opportunità Diciamo Sono Facilmente Scambiabili Un punto di forza Ti dà delle opportunità E viceversa Bisogna invece Lavorare Per trasformare I punti deboli In punti di forza E i rischi O le minacce In opportunità E questo Questo è È proprio Il lavoro Più importante Che va fatto Qui mancherebbe Secondo me Anche una freccia Sul lavoro Che va fatto Tra i punti deboli E le minacce Perché appunto I punti deboli Non diventino Delle minacce Il punto debole È un punto Nostro Interno È come dire Un punto Su cui devi Lavorare Perché non si Trasformi In minaccia E quindi C'è questa serie Di passaggi Di passaggi Da fare Quindi ad esempio Ad esempio Quella Il primo lavoro Che va fatto Anche perché poi In genere È la componente Più Più numerosa È quello Di trasformare I punti deboli In punti di forza Cioè I punti Trasformare I punti deboli In punti di forza Significa Fare Un lavoro Abbastanza Consistente Non è impossibile Nel senso che Riconoscere I punti deboli È già Un passo avanti Ed è soprattutto Su quelli Che vai a lavorare Nel senso che Mentre I rischi Le minacce Ok Sono importanti Però sono cose Che ti vengono Dall'esterno Innanzitutto E su cui Non puoi Agire Immediatamente Non puoi agire Con certezza Di risolverli Non dipendono Da noi Dipende Dall'esterno E quindi Non hai Questa possibilità Così Reale Invece I punti Di debolezza Quelli Dipendono Da noi Quindi Andare A Verificare A sintetizzare Veramente Qual è L'elemento Di fondo Il problema Di fondo È già Una soluzione Perché Io ho avuto Questa differenza Di questo tipo Di lavoro Su un progetto Di rigenerazione Scusa Accendi sotto Io Voglio dire Che Mentre parlava Ho Rivissuto Quello che ho fatto Circo un anno fa A Lecce Sul progetto Di una rigenerazione Di un quartiere Con questo tipo Di metodologia Con L'urbanistica Partecipata Dove Ognuno di noi Convolgendo Appunto Gli abitanti Del quartiere Le associazioni Le persone Che volevano Partecipare Anche Dall'esterno Il comune In primis Perché poi Era il soggetto Attuante Certo Promotore Dell'iniziativa E abbiamo fatto Proprio questa cosa Che stava descrivendo Ognuno di noi Aveva questi post-it Con una grande lavagna Dove si mettevano lì C'era una persona Che coordinava Il lavoro E poi la discussione È stata anche Molto più facile Nel senso che Anche appunto Come diceva prima lei I punti di debolezza E le difficoltà Quello che gli abitanti Vivevano come pericolo Si cercava Nel progetto Nel lavoro proprio in sé Al momento Ma anche poi dopo Per il coinvolgimento Le persone si sentivano Molto più coinvolte Che dicevano Ci piacerebbe avere Un parco giochi Piuttosto che Un supermercato Lì vicino Quindi non pensavo Non pensavo appunto A questa cosa Che in agricoltura Mi era proprio venuta in mente Di poterla Invece Perché non c'è Non c'è un argomento Specifico Su cui funzioni O non funzioni È proprio un modo Di vedere Le varie cose Sotto diversi aspetti E poi soprattutto Come accennavi È il coinvolgimento È il coinvolgimento Che è importante Perché è una forma Abbastanza inconsueta In cui uno Comunque si sente Abbastanza libero Cioè un conto È essere in assemblea Noi seduti Qui davanti E diteci Quali sono le debolezze Di questo Uno Comincia ad avere Qualche incertezza Da dire Adesso mi alzo Poi questi Mi inseguono Nel senso che E quindi questo tipo Di cose Permette proprio Di avere Di avere un coinvolgimento Diverso delle persone E poi ci potrebbe Su questo Ci si lavora Poi Nel senso che C'è un altro Un altro metodo Che si può applicare Che si può applicare Che ore sono? Lì 7 E Per portare avanti La discussione Sempre in modo Partecipato Forse l'avrete fatta È il World Caffè E No Nel World Caffè È importante Che ci sia Un corner Con pasticcini E caffè E caffè Messe lì Nell'angolo In modo che Chiunque Quando ha voglia O è stanco Della discussione Si alza E va E va a mangiare qualcosa Questo Infatti si chiama World Caffè Proprio per quello E l'altro E l'altro elemento È che Ad esempio Dopo aver fatto Questo tipo di analisi Anche lì Si cerca sempre Di lavorare con gruppi Abbastanza piccoli Il massimo Sarebbero 6 7 persone Proprio perché C'è questo problema Oltre Cominci a perdere Il filo Della discussione Prima che abbiamo Parlato tutti Ci vuole un'ora Allora Diventa un po' difficile 6 persone È l'ideale Quindi abbiamo 4 elementi 4 tavoli Di discussione 4 tavoli Divisi Nella stanza Un tavolo Qui Un tavolo lì Un po' lontani In modo che Non ci si parla sopra E ogni Ogni tavolo Su ogni tavolo È preso in esame Uno di questi punti Ci si dà Non lo so Abbiamo un pomeriggio Di tempo Ci si dà 5 ore Di tempo Ogni ora C'è Il facilitatore Che vi viene A chiamare Ogni ora Vi dice Cambiare tavolo Quindi Chi era seduto Da una parte Si alza Si mischiano Un po' le persone In modo da non Spostarsi a blocchi E si passa A un altro tavolo Se eri nel tavolo Dei punti di forza Passi al tavolo Dei punti deboli E così Per quattro volte In modo che Tutte le persone Hanno modo Di parlare Di quell'argomento In piccoli gruppi E quindi poter affrontare Tutto quanto Alla fine Poi Si fa Un momento Invece Assembleare Tutti insieme Si leggono I report Che escono Dai quattro tavoli Nelle forme Diciamo Più Istituzionalizzate Quando si fanno Operazioni Così Di Partecipate In genere Ci sono Delle persone Sedute al tavolo Che restano Fisse al tavolo Magari Non entrano Neanche Nella discussione Ma hanno solo Il compito Di riportare Tutte le cose Che vengono dette E alla fine Delle Quattro sessioni Tutti insieme Si rileggono Questi punti Qui E si va Poi A fare Un piano Un piano Di azione Quindi Sono Come vedete Sono tre passaggi Dal sogno Iniziale All'analisi Specifica A una discussione Poi A una discussione Con delle cose Che sono già Fissate E questo E questo Il punto Quindi Quando sei Al tavolo Parli Di quello Solo Di quello Non Non ti fai Non ti fai Prendere da una discussione Devi ragionare Solo su quello Il compito Della persona Come dire Esterna Che è al tavolo È proprio quello Di mantenere Il dibattito La discussione Su quel punto lì E quindi Si riesce ad arrivare Anche a qualcosa Di concreto Di efficace Molto spesso Si fa Innanzitutto Un giro Un giro In cui ognuno Dice La propria Opinione Senza che Nessuno Ribatta Perché è importante Che tutti Possano dire Il proprio Parere Senza Senza che ci sia Un No Il confronto Subito Dopodiché Una volta che tutti Hanno detto La propria Allora si comincia A discutere Questa è più buona Questa idea è un po' meno Eccetera Perché così Tutti hanno modo Di parlare Perché Per quanto piccoli Siano i gruppi Ci sono persone Che hanno Più o meno Facilità Di intervenire No? Quindi Se già uno Ha un problema In cinque Sei Figuratevi Se il gruppo È di dieci Dodici persone Cioè uno Che non ha Questa capacità Proprio Di esternare Il proprio pensiero Si trova un po' A disagio E quindi invece Se il primo giro Viene fatto così Che tutti zitti E ognuno parla Intanto si risolve Il problema E ognuno Ha detto la sua Insomma Così diventa più facile L'altra cosa Che bisogna fare In queste situazioni È Come dire Avete mai sentito parlare Dell'ascolto attivo È un'altra Metodologia Che viene usata Fondamentalmente Una delle Poche regole Base È che Ok Interrompere Quando uno parla Non è bello No? Ma al di là di questo Anche Mentre uno parla Noi in genere Non ascoltiamo Mentre uno parla Noi pensiamo Alla risposta Da dare dopo E questo significa Non ascoltare No? Quindi l'importante È quando si fanno Questo tipo di cose Svuotare Cioè Il tempo per dire Per intervenire Poi ce l'hai Non è che Quindi Ti segni le cose Al massimo Ma nel momento In cui una persona Parla Bisogna Ascoltare Quello che dice Cercare di capire Quello che dice No? Perché Sapete come sono le parole Uno Dice una cosa L'altro Ne intende Un'altra No? E quindi È invece importante Calarsi proprio Nella parte Dell'altra persona Se non sei d'accordo Non devi pensare Ah Adesso ti rispondo Io E pensare A cosa A cosa Devi dire Devi cercare Invece di metterti Nei suoi panni Non è detto Non è detto Che No? Che Che abbia torto Se ci pensi bene E se lo ascolti Per bene Magari Magari ti fai convincere Che la sua idea È migliore della tua Se tu invece Pensi a quello Che devi dire tu Tranquillo Che Non lo capirai mai Insomma Quindi Tutta una serie Di meccanismi Che Gestiti Appunto Da delle persone È più facile Poi Che portino Dei risultati concreti Molto spesso Per Per praticità Si fa Che ad esempio Questa persona Che scrive Il report No? È una Del gruppo Non è Non è Bellissimo Perché toglie Comunque Questa persona Dalla discussione Nel senso Che sta Lì Fermo Al tavolo Per tutte I quattro Le sessioni E alla fine Alla fine Si aveva qualche idea No? Su 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 Un punto diverso Non la sua Non viene fuori Però è anche vero Che trovare Quattro persone Esterme Che stanno lì A fare le belle Statuine Non è Non è così semplice Per cui Magari si trovano Poi delle Delle vie Delle vie Di mezzo Insomma Si lasciano intervenire Comunque Ecco Giusto per E questo qui Questo è molto positivo Perché appunto Ti porta poi Abbastanza velocemente Anche ad avere qualcosa Di concreto In mano Da questo punto In poi Per sviluppare Per sviluppare Un percorso Che ti porti A un risultato Concreto Che fare No? Bisogna invece Parlare Lì a quel punto La discussione Va fatta Per forza Cioè Quando abbiamo Discusso Sui punti di forza I punti deboli Quindi a quel punto Bisogna cercare poi Le soluzioni Da fare No? Le soluzioni Da portare avanti Allora conviene Ad esempio Gestir Gestirlo Sempre Si può fare Ad esempio Con un focus group Un focus group È Una Otto Dieci persone Al massimo Che si ritrovano In questa sala Io mi preparo Delle domande Rispetto a una A una di queste Quattro parti Mi preparo Delle domande Che portino A una conclusione Che portino A qualcosa Di concreto Da fare No? E poi Vi faccio Le domande A voi Che siete lì Anche lì Stesso discorso Non si discute Ma si propone Quindi non c'è Un confronto Oppure Ci può scappare Il confronto Ma l'importante È che le persone Vengano stimolate A produrre Delle proposte No? E c'è Una persona Accanto Che prende nota Di tutto Quindi non Non hai Tempo Bisogno Di scriverti O di fare le cose Basta che parli No? Basta che ascolti Quando parlano Gli altri E poi Quando è il tuo Il tuo turno Parli tu In questo modo In questo modo Stimoli Stimoli la discussione Perché? Perché Se Se diventa Un dibattito Se diventa Un dibattito Perdi il filo No? Se invece Ognuno è tenuto A rispondere A quella domanda Ognuno risponde A quella domanda A turno Poi casomai Si discute Sono d'accordo Non sono d'accordo Però L'importante È che Prima vengano fuori Le cose Che uno Ha da dire La propria proposta No? Cioè Perdere Perdere il filo Per rispondere Alla proposta Di una persona E dirgli Non sono d'accordo In termini Di produzione Di un risultato Di qualcosa Di concreto È zero No? Se tu invece Vieni tenuto Proprio Come dire A freno Lo so Sembra un po' Limitante Forse No? Però Valutiamo sempre L'efficacia Delle cose Cioè Ripeto Discussioni No? Discussioni Un incontro Di che cosa Parliamo È abbastanza Cioè È abbastanza Pesante Nel senso Che devi Devi comunque Se hai dei risultati Se vedi qualcosa Di concreto Se vedi Che il lavoro Va avanti Sei molto più Portato No? È un risultato Che comunque Ottieni Quindi sei anche Portato a proseguire Poi in questo lavoro E se no Si continua A parlare Di aria fritta Dopo un po' No? Cioè Sono queste cose Magari Io ho visto Spessissimo Dei gruppi Partire numerosissimi Dopo Al terzo incontro Cioè Non c'era Il numero Minimo legale Nel senso Che anche se Non era legale Cioè Erano due persone Quindi È importante Concentrarsi Su questi aspetti Per riuscire Poi a ottenere Qualcosa Qualcosa Di concreto Adesso Questo Questo Ve l'ho fatta Molto Molto Veloce Ognuno Di questi aspetti Ognuno Di queste Metodologie Ha Come dire Ha proprio Delle cose Che lo illustrano Casomai Vi giro il file Sono Sono molto Semplici Nel senso Io ve le ho descritte Proprio nei termini Minimi Ma Spero Che abbiate capito Come funziona Ecco Non è Niente di particolare Naturalmente Gestita Gestita bene Da dei buoni Risultati Ecco Quindi Poi Vi girerò I file E così Voi avrete modo Di leggerli E di Arrivare Magari a usarli Appena possibile Questo qui Questo qui Ad esempio Vale anche Si può fare Anche da soli Questo si può fare Anche da soli E vi giuro Che Non siamo Abituati A fare Questo 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 Ragionamento Io per primo Mi ritrovo Spesso A A pensare A delle cose E Non riesce A venire a capo A venirne a capo Nel senso che Continui a girare A mettere giù Vari punti Ma senza mai trovare Il modo giusto Se lo fai Proprio sul foglio Di carta Insomma Ti facilita un po' Le cose Bene Come elemento Poi Di Di Quello è È un Una cosa Molto più Da grandi numeri Volendo E anche Molto coinvolgente È ad esempio L'open space Technology Non so se lo avete fatto In questo progetto Di Urbanistica Quello è È veramente Il massimo Dal punto di vista Della creatività No Su un dato Argomento Su un dato Argomento In genere È una domanda No È una domanda Perché La domanda Stimola Delle risposte Naturalmente Una domanda Il più ampia Possibile Che non Che non Concentri La discussione Su un unico Punto No Una domanda Molto ampia Ci vuole Ci vuole Una giornata Di tempo Minimo Minimo Ci vuole Una giornata Di tempo Perché C'è Questo Momento Assembleare Iniziale In cui Si descrive Tutta L'operazione Il Punto Centrale È Il momento In cui Tu Guardi Il muro Dove c'è Il programma Di lavori E non c'è Niente E allora È un po' Sconcertante Il momento Principale È quando Si invitano Le persone Che sono sedute In cerchio Ad alzarsi A venire Al centro Prendere Un cartoncino E Scrivere Il tema Inerente All'argomento Della giornata Il tema Di cui vorrebbe Parlare No Si aspetta Un po' Finché Tutti Hanno Come dire Proposto L'argomento Di discussione Che gli sta Più a cuore Se qualcuno Non vuole Scrivere Niente O proporre Niente Non propone Niente Se qualcuno Ha due Tre temi Ha due Tre temi Tutto molto Libero Alla fine Questi vengono Appiccicati Sul muro Divisi In sessione Di discussione Oraria Ogni Ogni ora Magari Ci sono Tre Quattro Tavoli Quindi ogni ora Vengono Discussi Quattro temi Con il nome Di chi Lo ha proposto E poi alla fine Le persone Vanno a vedere Cosa gli interessa Di più E vanno A un tavolo Piuttosto Che all'altro No Cioè È molto Libera Come Cosa E quindi Lasciando anche Questa libertà Di Proporre No Magari Sembra che Le cose Siano Non siano Proprio Inerenti Però Faciliti Faciliti Molto La discussione Nel senso Che Non è detto Cioè Il tema Della giornata È quello Quindi Bene o male Le proposte Che uno fa Se la fa Evidentemente Ha un significato Per lui Quindi Quando sei Poi al tavolo Che ne parli Che lo spieghi Viene fuori Vengono fuori Comunque Delle proposte Questo però Porta via Una giornata Perché Beh Una sessione Di un'ora Non è sufficiente Ci vuole almeno Un'ora e mezza Di discussione Quindi Se metti insieme L'inizio La mattina Il momento Assembleare Poi fai Una sessione Di discussione Altre due sessioni Il pomeriggio Poi Il cerchio Finale Insomma Ci vuole Una giornata Si può fare Con quattro Cinque Sei tavoli A seconda Del numero Delle persone Che ci sono Ma Anche questo Porta a risultati Concreti Da un lato Ma soprattutto In termini Di partecipazione È molto Coinvolgente Nel senso Che la cosa Che viene detta All'inizio È che Abbiamo bisogno Di Buone idee Per quanto riguarda Questo argomento Di oggi Ma abbiamo Abbiamo anche Bisogno Di qualcuno Che Se queste idee Le propone Poi le porta Avanti Quindi Non buone idee Che poi Possono fare Gli altri Buone idee Che Se tu proponi Poi fai Quindi uno Si prende L'impegno In quel senso Allora Diventa Non dico che uno Se ne sta zitto Però Insomma Ti devi anche Poi prendere La responsabilità Cioè Partecipi Proponi Poi dopo La responsabilità È la tua Poi dopo Lì con un Metodo Proprio di Action Planning Si va a fare Anche una sorta Di scelta Di quali argomenti Hanno avuto Più Più successo E quindi A formare Dei gruppi Di lavoro È È abbastanza Complicato Anche in termini Di preparazione Si fa Ad esempio Nella Nell'urbanistica Partecipata Ma anche per altre cose Si arriva a fare Con numeri Di due Trecento Persone Quindi Provate a pensare A mettere insieme Una struttura Con abbastanza Spazi Per 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 far discutere Tutti Cioè Normalmente Le proposte Che vengono Dalle persone Sono circa Il Il 40% Dei presenti Cioè Se hai cento Persone Ti vengono Ti vengono fatte Almeno 40 proposte Di discussione Quindi 40 proposte Da discutere In una giornata Significa che devi avere Uno spazio Abbastanza ampio Però Sono Sono molto Efficaci E soprattutto Come dire Danno un po' Il segnale Alle persone Come dire Comuni No Alle persone Normali Che forse A qualcosa Puoi partecipare Che in qualche modo Puoi dire La tua No Cosa che invece Normalmente Non succede Quello che la gente Dice Quasi sempre È che Sì sì Ma tanto Che discutiamo A fare Che tanto poi Le decisioni Vengono prese Da un'altra parte Questa cosa qui Ad esempio Quando si va A preparare Questo tipo Di azione Con un'amministrazione Io almeno Da parte mia L'unica cosa Che chiedo All'amministrazione Se decide Di farlo È che Se decide Di farlo Poi deve Tenere conto Di quello Che esce Cioè Non Uno Non Io Non ci metto Il mio nome Se tu pensi Di tirare un bidone Cioè Se tu promuovi Questa cosa Che ha bisogno Di tutta una preparazione No Di informare le persone Di dargli anche Un minimo Di documentazione Di informazioni Su quell'argomento Fai tutto questo lavoro E poi alla fine Ah sì Bello Bello Però noi abbiamo Già Abbiamo già deciso In un altro modo Allora Quello è veramente Prendere in giro Prendere in giro Le persone Insomma Ecco Questo A brevi linee Quello Quello che si può fare Se poi Avete un argomento Domani Potremo provare A fare un piccolo World Cafe Così ci Ci gestiamo Individuiamo Individuiamo Un argomento E ci facciamo Anche una cosa Veloce Tanto Non servono Quattro tavoli Se ne possono anche Fare tre Giusto per Giusto per Oppure Se si è Se si è In molti Si può fare Anche che ci sono Più tavoli Che discutono Gli stessi Tre temi Cioè Sei tavoli Due a due Discutono Lo stesso tema In modo che Tutti Tutti Riescono A girare L'importante È girare E mischiarsi Perché Perché Poi parli Con persone Diverse Se ti muovi In blocco Da un tavolo All'altro Perdi Perde proprio Tutto il Bello Della Della situazione Insomma Va bene 19 e 23 Parliamo un po' Di cooperative Io adesso Ho un bel file Lunghissimo Con tutti gli articoli Del codice civile Con tutte le cose Interessantissimo È bellissimo No Nel senso che Dai È abbastanza semplice Le saltiamo Tutta una serie Di parti La cooperativa Allora Ci sono due tipi Di società Le società Di persone No E Il 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 Fattore Principale È il discorso Della responsabilità In una società Di persone La responsabilità È illimitata Quindi I soci Rispondono No Rispondono In prima persona E ci sono poi Le società Di capitali In questo caso Invece La responsabilità La responsabilità Non c'è Cioè Responsabilità Limitata Società Per azioni Quindi O nel caso Della società Inaccomandita Uno è responsabile Nella SAS Adesso questo Nemmeno Le cooperative Sono una via Di mezzo Nel senso Che è comunque Una società Di persone Perché La figura Dei soci Intanto Ci vogliono Almeno nove persone Non puoi fare Diversamente E E però Dal punto di vista Della responsabilità È simile A una società Di capitali Nel senso Che i soci Non hanno Non hanno La piena Hanno Una responsabilità Limitata Rispetto Alle associazioni Rispetto Alle azioni Della cooperativa Quindi Se la cooperativa Ha poi dei problemi Non rispondono Direttamente I soci E questo Diciamo Tranquillizza Un po' La situazione Nel senso Che Un'altra caratteristica È che Comunque È Un Un modo No? Una forma Che ti permette Di 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 fare Fondamentalmente Delle cose Senza avere Necessariamente Un capitale Tuo Cioè L'insieme Di più persone Mette insieme No? Il Le capacità Di tutti Sia da un punto Di vista Proprio Personale Ma anche Finanziario Economico Quindi È È Proprio Un approccio Diverso E in ogni Caso Diciamo Che Al centro Di questa Di questo Tipo Di Società La 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 figura Principale Proprio È Il socio È La persona No? È La persona E Lo scopo Mutualistico È Questo Che Dicevo Anche Prima Che Secondo Me Le cooperative Hanno Un po' Perso Nel Tempo Cioè Se voi Andate A vedere Gli statuti Delle cooperative Sono più o meno Tutti uguali E tutti quanti Parlano Dello scopo Mutualistico Non c'è Non c'è Verso Cioè Tutti quanti Ce l'hanno Dentro Deve esserci Per forza No? Ma Un conto È Che poi Sia Realmente Così Cioè Come dicevo Si perde Un po' Di vista Questa Cosa No? E Soprattutto Dal mio Punto Di vista Una cooperativa Non dovrebbe Nemmeno Equipararsi A una società Di persone O di capitali Nel senso che Hai una funzione Completamente Diversa Certo Sei sul mercato Ma la tua Attenzione Non è quella Di produrre Utile La tua Funzione È quella Di curare La figura Del socio No? La crescita Del socio Cioè Se Se andiamo Alle origini Delle cooperative Fine Ottocento Ma poi Anche Anche Agli inizi Del novecento Queste cose Nascevano Proprio Per l'esigenza Certo Di Come dire Di fare Insieme Delle cose In modo Più efficace No? Le prime cooperative Nate in Inghilterra La prima cooperativa Nata in Inghilterra Era Serviva A comprare La farina Insieme E Avere Dei prezzi Migliori No? Quindi era Proprio Molto Reale Come cosa Le prime cooperative Vibraccianti Fondamentalmente Avevano Il compito Di organizzare Il lavoro Dei propri soci E di avere Un maggior potere Di confronto Con i proprietari Terrieri No? O di Occupare Dei terreni E lavorarli Insieme No? E questo Era il modo Migliore Ma perché? Perché Presupponeva comunque Un miglioramento Della qualità Della vita E poi Ripeto Poi La società cooperativa È diventata Un modo Come un altro Per aggirare Degli ostacoli O per avere Modo Di organizzare Meglio Il lavoro Di qualche centinaio Di persone No? E molto spesso Pagarle È anche male Cioè Ci sono cooperative Che sono cooperative Sulla carta Nei fatti Sono amministrate Da due Tre persone No? E quindi Non c'è un interesse Collettivo Dietro C'è un interesse Privato Ma Questo è Questo è Come dire È un problema Poi delle persone Che ci sono dentro No? Nello Nello statuto Delle cooperative Queste cose Ci sono sempre No? Capitale variabile Perché naturalmente In base al numero Dei soci Varia il capitale I soci Si possono iscrivere In continuazione E Quello è Il capitale sociale Ed è Una Una cifra Una quota Che va Come dire Messa da parte Riservata È il capitale Dell'azienda No? E poi Lo scopo mutualistico Lo scopo mutualistico Che è Che è Fondamentale Le società C'è poi Questa divisione Tra le società cooperative A mutualità Prevalente E quelle che invece Non sono Mutualità Prevalente Nelle cooperative A mutualità Prevalente Più della metà Del lavoro Della cooperativa Del fatturato Della cooperativa Deve essere fatto O rivolto Ai soci No? Quelle che non sono A mutualità Prevalente In genere Sono cooperative Che sono più Aperte All'esterno E quindi Hanno Molto più Lavoro Con i non soci No? E questo però Perdono Tutta una serie Di diritti Poi anche Dal punto Amministrativo Fiscale È una cosa Diversa Insomma Cioè Si avvicina Molto di più All'azienda Normale Nel senso Metti insieme Questa cosa E poi Commerci O lavori Con i non soci Quindi La mutualità Prevalente È fatta Proprio Per mantenere L'ambito E la cooperativa All'interno Del lavoro Con i soci Va bene Qui saltiamo Mutualità Prevalente Poi questo Vi do tutto Così voi Ecco La vigilanza Sulle cooperative Questo è un altro Fattore Importante Perché Ogni Due anni Viene fatto Un Come dire Un Controllo Sull'attività Della cooperativa Per verificare Che mantenga Le caratteristiche Di cooperativa Allora È È una cosa Che È un'ispezione Che dovrebbe Essere fatta Dal Ministero Ma il Ministero Demanda Alle organizzazioni Di categoria Quindi Le varie Conf Cooperative Lega Cop Eccetera Lo possono Lo possono fare Loro Per cui In genere Quando si forma Una cooperativa Conviene Farlo All'interno Di una Di queste Associazioni In modo In modo Che poi Tutto sommato È l'associazione A cui sei iscritto A fare L'ispezione A fare Il controllo Anche lì È un po' È un po' Banale Insomma Tu Fai parte E paghi Credo 200-300 euro All'anno Tipo A questa Associazione Che poi dopo Ti fa il controllo E ti dice Che è tutto in ordine Ma ci mancherebbe altro Dopo che Dopo che la paghi Ti diranno sicuramente Di sì Però ecco È una cosa Che comunque Sono tenuti Sono tenuti A fare Insomma E che conviene E conviene Fare l'associazione Perché poi Obiettivamente Se viene qualcuno Di esterno Non si sa mai Come Come va a finire Società Porta aperta Perché Appunto Tutta Tutta L'entrata O l'uscita Dei soci Non può essere Non può essere Come dire Bloccata Cioè Non c'è Un numero Chiuso E non c'è Neanche Il fatto Che tu Non possa Uscire Da questa Cooperativa No Capitale Variabile Abbiamo detto Assemblea Consigli Qui su tutti Gli articoli Poi voi Ve li Guardate Così Con calma Ecco La tutela Della cooperativa È una cosa Che nasce Proprio Dall'inizio Della Repubblica Addirittura Ancora Ancora Prima Del primo Governo C'era Il Come si Dice Il Vediamo Se lo Trovo Ecco Vedete Il capo Provisorio Dello Stato Quindi Nel 1947 Fecero Questa Legge Sulla Disciplina Delle Cooperative Sociali Proprio Fin dall'inizio È stata C'è anche Nella Costituzione L'articolo 45 Della Costituzione Proprio Specifico Sulle Cooperative Quindi È stato Un indirizzo Che è stato Proprio Dato Fin da Subito Ed è Stata Poi Come dire Rivista Un po' Da In altri Passaggi Successivi Fino Alla Definizione Anche Delle Cooperative Sociali Che ormai Sono Una realtà Abbastanza Abbastanza Consistente Si occupano Di cose Che Difficilmente Altri Tipi Di Organizzazioni Di strutture Potrebbero Fare Con I servizi Sociosanitari Eccetera Per cui Sono diventate Alla fine Molto Importanti Occupano Un sacco Di persone Nel senso Che sono Quei lavori Che comunque Vengono Pagati In qualche Modo E i servizi Sociosanitari Proprio In genere Si appoggiano A queste Cooperative Quindi Hanno Anche Gli articoli Che si applicano Alla società Cooperativa Proprio Perché Da un lato Sono simili Alle società Di capitali E quindi Si avvicinano A SPA E SRL E però Poi Hanno Una Una loro Definizione Particolare E quindi Sono state Fatte nel tempo Tutta una serie Di passaggi E di leggi Diverse Per Per riuscire a definirle A definirle sempre meglio Diciamo che sono Sono privilegiate Questo Questo sì Anche se In termini reali Nel tempo I privilegi Che c'erano Che c'erano Stati Si sono Si sono Comunque Persi Proprio Perché Si è visto Che Questo aspetto Mutualistico Si perdeva Sempre di più E sempre di più Diventavano Poi Come dire Delle Delle società Delle SPA Mascherate Delle SRL Mascherate Non è Una Non è un aspetto Quello Della Cooperazione Che riguarda Una o L'altra parte Politica Esistono Sono Esistevano All'inizio Cooperative Bianche E cooperative Rosse Quando Pochi anni Fa Negli ultimi Governi Si era cominciato A parlare Di Togliere Tutti questi Benefici Alle cooperative Chi Aveva Proposto Questa cosa E poi Tornato Subito Indietro Nel senso Che la distribuzione Proprio Delle Cooperative Controllate Da uno O dall'altra Parte politica Era tale Che Qualsiasi Intervento Che era Stato pensato Per incidere Contro un sistema Che poi Rappresentava Una parte O l'altra O l'altra In realtà Andava Poi A toccare Anche I propri Interessi Quindi È Abbastanza Diffusa Come numero Di cooperative Ce n'è Una quantità Enorme In totale In agricoltura In agricoltura La parte Più Consistente Della cooperazione È poi Quella Che si realizza Per la trasformazione Dei prodotti Quello è proprio Come dire Il settore Che Che coinvolge Più persone Pensiamo Ai frantoi Alle Cantine sociali A tutto questo Tipo Di Di Attività Che Obiettivamente Fa un po' Il lavoro Che dicevamo Che dicevamo Prima Cioè Di raccogliere Un po' Tutte le Le piccole realtà Che trovano Poi modo Di avere Come dire La commercializzazione Dell'olio Una volta Lavorato In comune E quindi Anche di riuscire Ad avere Un minimo Di potere Di gestione Di questo Materiale Le cooperative Come erano state Pensate All'inizio Agrarie Che Si occupavano Un po' Di Della lavorazione Dei terreni In realtà Sono la parte La parte Proprio Meno rappresentata Nel senso Che è un tipo Di cosa Che non si fa Molto Cioè Avere Mettere in comune I terreni Per lavorarli Insieme O fare La cooperativa Che Prende Un podere Un'azienda Un'azienda E la lavora Insieme Non è Una cosa Molto Consueta Esistono Alcuni Casi Ma si Configurano Per lo più Come Cooperative Di servizi Che comprendono Non lo so Sia il consorzio Agrario Che vende I materiali Per l'agricoltura Come i terzisti Che lavorano Che lavorano Poi Terre Di altri Esistono Alcuni Casi Di Agricoltori Che hanno Messo Insieme Invece Di comprare Le macchine Per fare Il servizio Da terzista Hanno messo Insieme Le terre E hanno Unificato L'azienda Ad esempio E questo Ha degli aspetti Dei risvolti Sia in termini Pratici Come Minori Costi Di macchine Cioè Una macchina Può lavorare Dieci aziende Anziché Avere dieci macchine Una per azienda E sia in termini Poi finali Perché a quel punto La vendita Dei prodotti Cioè I raccolti Hanno dimensioni Tali Che comincia Ad avere Un minimo Di potere Contrattuale E quindi Era una forma Che probabilmente All'inizio Aveva Un qualche significato Ma poi Col tempo Si è perso Perché Si è sempre cercato Di spingere Nella direzione Di ingrandire Le aziende E di fare in modo Che ogni azienda Fosse Come dire Autosufficiente Quindi Hai una grande azienda A quel punto Devi avere tutte le macchine Che ti servono Senza pensare Che poi Una mietitrabbia La usi una volta L'anno Cioè Quanto Vuoi fartela durare Perché si ripaghi Devi per forza Andare a lavorare fuori Quindi diventa Un meccanismo Un po' Che si insegue E Queste sono Le due Forme Principali Un'altra forma Che invece Ha Soprattutto Posso farti una domanda Sì Ok Siccome Soprattutto ieri Le persone hanno chiesto Di fare riferimenti A quello Che si può fare Con l'agricoltura naturale Tu come vedresti Una cooperativa Che nasce Per cercare Di mettere in atto Quelli che sono I principi Di un'agricoltura naturale Che quindi si basa meno Su mezzi meccanici Che vuole recuperare Biodiversità Che vuole utilizzare Vecchie sementi Che vuole in qualche maniera Utilizzare Persone E Che hanno come Insomma Fine ultimo La terra E il beneficio Della terra E della loro salute Beh Direi che Tolte Le aspettative Che ognuno Di noi Può avere Poi Sul Sui risultati Economici No Che però Non sono tutto Nella vita La cooperativa È Fatta nel modo Nel modo Proprio classico Quello Quello vero È La forma Che Ti facilita Di più Questo tipo Di lavoro Cioè Se tu parti Con questi Presupposti E cerchi Di fare qualcosa Di altro Di diverso Obiettivamente E probabilmente Non temi Neanche Che Nelle fasi Iniziali Il tuo reddito Non possa essere Tra i più alti No Hai in mente Qualcos'altro Hai in mente Ad esempio Che Quel Quel Carattere Mutualistico Possa essere Molto più Importante Di una certa Somma Di denaro Cioè La crescita La crescita Delle persone In questo senso Dà Qualcosa Di più Dà qualcosa Di più E quindi Come 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 struttura Come tipo Di società La cooperativa Questo te lo facilita Nel senso che Tutto il tuo lavoro È rivolto Proprio Allo sviluppo Culturale Dei soci Anche Non Non solo uno sviluppo Tecnico È proprio Uno sviluppo Culturale Che devi Che devi Seguire E Molto spesso Soprattutto per quanto Riguarda Il biologico Questo tipo Di azioni La difficoltà Che una persona Ha È che Non ha L'azienda Cioè Moltissime Delle Nuove aziende Biologiche Che nascono Non sono aziende Che si trasformano Sono aziende Che nascono Dal nulla Da persone Che magari Molto spesso Non erano Non erano Neanche in agricoltura Sono pochissime Le persone Abbastanza Illuminate Da capire Che è ora Di cambiare No? Per cui Se non hai la terra Diventa tutto Molto più complicato Allora Già Una struttura Di questo tipo Invece Ti permette Di avere Di avere Un approccio Diverso Innanzitutto Non sei da solo E questo è fondamentale No? Poi comunque Hai L'appoggio Di Di strutture E di realtà Già esistenti Penso a A banche Cooperative Che Nella carta Dovrebbero avere Un atteggiamento Diverso No? E altre cose Per cui riesce Ad avere comunque Dei finanziamenti In questo senso E un'altra cosa Siccome ieri abbiamo imparato Che nell'ambito Dei finanziamenti Se non sei Un coltivatore Diretto E quindi paghi I contributi Cioè paghi Per la tua pensione Tutto questo Non hai accesso Se come dici tu Per creare Una cooperativa Di quel genere Noi mettiamo in conto Che non avremo Un ritorno economico Per lo meno Non nel primo periodo Come noi possiamo Pagare I nostri contributi Pensionistici Consapevoli Che noi stiamo Semplicemente Sacrificando Il nostro tempo Per costruire qualcosa In cui noi crediamo Che non ci dà Ritorno economico A quel punto Come facciamo A costituire Una cooperativa Se non abbiamo I soldi Dunque Ci sono Due aspetti Se vuoi fare Una cooperativa Agricola Almeno una persona Deve avere Necessariamente L'abilitazione Su questo Proprio Non Non puoi Neanche fare L'attività Non puoi Non puoi aprire Ma basta Che sia Un diplomato Una scuola Ad un Ad un istituto Di agraria Non è necessario Un agronomo Ma anche Un diplomato Alle scuole superiori È sufficiente È già Quello già ti permette Di avere La qualifica Oppure ci sono I corsi Per fare Lo IAP Diventare Imprenditore Agricolo Professionale Dopodiché Una sola persona All'interno Della cooperativa Dà alla cooperativa La possibilità Di essere Una cooperativa Agricola Quindi Questo ti facilita Un po' le cose Per quanto riguarda Poi la gestione Del Come dire Del lavoro Dei contributi È lì Bisogna inventarsi Qualcosa Bisogna inventarsi Qualcosa Nel senso Che Pagare Più persone È complesso A meno che Non hai In partenza Un volume Di lavoro Molto alto Funziona poi In agricoltura È un settore Abbastanza particolare Tu basta che fai Un minimo Di giornate All'anno Per mantenere Poi Lo status Eccetera Avere Tutta la contribuzione Chiaramente Far partecipare Al lavoro Che non sono Come dire In regola Non è Non è possibile Io non dovrei Dire nulla A proposito Ma noi Ad esempio Abbiamo fatto Che Abbiamo istituito L'agri fitness Per i soci Per i soci Della cooperativa I soci Pagano 10 euro All'anno Per fare Questi corsi Di agri fitness E poi Vengono A lavorare In campo Se tu paghi Non lavori Questo mi sembra Mi sembra Scontato No? Cioè Quindi abbiamo Scavalcato il problema E Abbiamo fatto così Cioè Non Se no Era difficile Era difficile Contenere i soci Che non venissero A lavorare No? La nostra È una cooperativa È una cooperativa In cui Lavoriamo In quattro Ci sono 200 soci A Bologna Tutti hanno voglia Di venire a zappare No? E Tenerli fuori Era Difficile E quindi Io adesso Non so Quanto sia legale Anzi Mi state riprendendo Forse non va bene Però Però è così Se tu paghi Se tu paghi Non stai lavorando No? Fino a prova contraria Per cui Abbiamo ovviato A questa cosa E Sono dei corsi Che si ripetono Vengono in continuazione Vengono organizzati In continuazione Dei corsi di formazione Proprio Quindi Ad esempio Non lo so Potrebbe essere una forma Ma non Non prendetemi Troppo sul serio Però se no Se no È veramente Un problema Perché obiettivamente È chiaro che uno Deve avere Una copertura Insomma Su Questo Tipo di cose E però Sai Anche Cioè È già difficile Fare reddito Per Per una Due persone No? Quindi pensare Di coinvolgere In questo senso Sai Nella 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 preparazione Di questo progetto Di queste cose Magari conti Conti proprio Su Su quelle fasi Intermedie Di persone Che sono Molto interessate Che sono disposte A far parte No? Però che magari Continuano ad avere Un impiego O Un reddito No? E quindi vai Vai anche alla ricerca Di questo tipo Di persone No? In modo che Come dire Fai la cooperativa Ci sono Quelle persone Che comunque Invece hanno bisogno Di avere un reddito Immediato E cominciano a lavorarci Poi Ripeto Secondo me Fare Questo tipo Di lavoro Anche in termini Proprio Personali No? Ti dà Molto di più Di quello Che non ti possono dare Dei soldi Cioè Fare questo lavoro Anche proprio Di formazione Delle persone Ha Comunque Un valore Ha comunque Un valore Adesso poi Ne riparliamo Quando vi farò Poi la presentazione Della nostra Cooperativa Ma Noi Siamo in quattro Che lavoriamo Ci siamo Autoridotti Lo stipendio E guadagniamo 420 euro Al mese E questo è Questo è quanto Si può permettere La cooperativa In questo momento Diversamente Spese Escruse Nel netto delle tasse Ah si si Al netto delle tasse Si Se vuoi fare il pareggio C'è poco da fare Da qualche parte Li devi Però ti dico Cioè La spinta Che c'è dietro No? Cioè Fai le cose Proprio per Per passione Per passione Insomma Nel senso che E quindi Se il coinvolgimento È a quel livello Adesso è chiaro Che i soldi servono Però Insomma Si riesce anche A ridurre al minimo Le necessità No? E a spendere E a spendere Di meno Senza contare Che poi Hai tutta la verdura Che vuoi Quello si Ma 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 tanto Più di tanto Non se ne fa Insomma No no È così No Questa cosa qui Comunque Voi ve ne parlo Dunque domani No Dopodomani Che ho proprio La presentazione Con Con tutti gli aspetti Perché da Da qualche punto di vista È anche un po' Innovativa Abbiamo introdotto Una figura Di socio Diversa Proprio per Permettere al socio Di Ottenere i servizi Senza prestare Nessun tipo Di 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 Lavoro No E quindi Abbiamo cercata Di adattarla Un po' E soprattutto Ispirandoci A delle forme Che esistono In moltissimi Paesi Nord Europa Stati Uniti E Che sono Le Le comunità Che supportano L'agricoltura Quindi Dei gruppi Di persone Il cui I soci Poi In questo caso Il cui Fine Non è Non è Tanto Quello Di Comprare Le verdure Ma Di Sostenere Il contadino Che ci Lavora No Quindi È Diverso È Diverso Nel senso Che Lì c'è una Persona Che Che Lavora Per Te No La Decisione Su tutte Le cose Da fare Su che Cosa Piantare Viene Presa In Assemblea Insomma È Un funzionamento Particolare Dicevo Ho sentito parlare A riguardo Non so se la stessa cosa Può essere un'idea Che mi è venuta In questo momento Rispetto alla gallina In adozione Che tu adotti una gallina E ricevi le uova Ricevo la pecora In Sardegna Esatto No no Ma infatti ci sono Ci sono Ci sono forme simili Proprio di coinvolgimento Anche perché in questo modo Poi La La responsabilità Di Del Del campo Tra virgolette È condivisa Cioè Se succede qualcosa Che Ti 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 fa perdere Tutto il raccolto Cioè Il contadino Va pagato Comunque La responsabilità Viene divisa Tra tutti Non otterrai Il prodotto Che ti aspetti Ma è proprio Un modo Di Di fare le cose Insieme Quindi Si divide tutto No? Oneri e onori Naturalmente Quindi Va bene Dai Grazie a voi Ci vediamo Ci vediamo domani Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti.